Questa unità didattica è dedicata all'implementazione in prologue della negazione per fallimento. Ricorderete dalla introduzione alla logica del primo ordine e alla programmazione logica che la negazione per fallimento è una forma di implementazione della Closed Word Assumption. La Closed Word Assumption diceva che se io ho che un automo ground non è conseguenza logica di un insieme di formule chiuse, assumo che la sua negazione lo sia. Vi ricorderete che questa è una forzatura della logica del primo ordine, che in certi casi può tornare utile. Poiché però, a causa della semidecibilità della logica del primo ordine, non è sempre possibile provare che una formula non è conseguenza logica di altre, è stata proposta sempre nello stesso anno da Clark la negazione per fallimento, che appunto è una restrizione. La negazione per fallimento dice che se io lancio un automo ground come goal a un programma definito utilizzando una qualche regola di computazione e ottengo un albero finitamente fallito, cioè che non ha rami infiniti e che tutti i rami finiscono in fallimento, cioè non si trova la clasula vuota, quindi effettivamente ho provato che A non è conseguenza logica del programma e quindi assumo che lo sia la sua negazione. Sempre una forzatura E. Però appunto il concetto significativo ricordare è che si fa riferimento a un qualche albero SLD ottenuto con una qualche regola di computazione. Il prologue non può implementare questa regola così enunciata perché in realtà utilizza una particolare regola di computazione che è quella di prendere sempre l'atomo più a sinistra. E quindi quello che può fare il prologue è prendere questo atomo ground, lanciarlo, utilizzando la regola sua convenzionale, e se utilizzando questa regola si ha un albero finitamente fallito, il prologue risponde false e risponderebbe false e allora implementato in una certa maniera come stiamo per vedere il not, la negazione del fallimento, invertendo la negazione di successo e fallimento come stiamo per vedere mi fa rispondere yes e quindi sostanzialmente provo che la negazione di quell'atomo grande è una conseguenza logica del programma. Ovviamente, ripeto, tutto ciò è una forzatura, è una forzatura della logica, ma è un rilassamento della negazione del fallimento, cioè no, è una sezione ulteriore della negazione del fallimento, perché appunto si fa riferimento a una particolare regola di computazione, ma anche il prologue fa un'altra cosa, fa una generalizzazione e quindi un'ulteriore deroga rispetto al concetto originario di negazione del fallimento, perché laddove la negazione del fallimento faccia riferimento ad un atomo ground, in realtà, come stiamo per vedere, per come è implementata la negazione del fallimento, noi possiamo anche lanciare atomi non ground come goal e questo ci comporterà dei problemi. Sostanzialmente, esattamente, questo è il problema più grosso che presenteremo in questa unità didattica. Per illustrare appunto come viene implementata la negazione del fallimento del prologue, che partiamo, seguendo il professor Brattaco, dal concetto di eccezioni, perché effettivamente le regole con eccezioni possono venire in maniera conveniente e essere rappresentate mediante la negazione del fallimento. Supponiamo di voler esprimere, per esempio, il concetto che a Maria piacciono tutti gli animali a parte i serpenti e questo lo potremmo implementare, questo concetto, mediante un periodo prologue, likes, marry qualcosa, e lo potremmo implementare, questa regola con eccezione, appunto con due regole. Una che dice che a Mary piacciono gli X se sono animali, quindi se X è un animale a Mary piace. E quella sarebbe la regola generica. E un'altra clausola per gestire l'eccezione, che la dobbiamo mettere anche prima, che dice che X piace a Mary se X è un serpente, cat fail. Utilizziamo il cat e utilizziamo quest'altro predicato, fail, che è un predicato che è built in, come anche il cat, che fallisce. E quindi fallendo, qui prima di lui c'è il cat, provoca proprio il fallimento del goal che avessimo lanciato. A Mary piace un certo oggetto che ha la proprietà di essere un serpente. Se questo oggetto ha la proprietà di essere un serpente, quindi viene soddisfatto questo goal, a quel punto è cat fail. E non è più risoddisfacibile la X Mary, quell'oggetto lì. In pratica avremmo provato che quell'oggetto che ha la proprietà di essere un serpente, a Mary non piace. E questo potremmo conveniente implementarlo, meglio, stiamo per vedere, utilizzando appunto la negazione per fallimento. Ecco, qui vediamo come è implementata in prolog la negazione per fallimento. E viene implementata mediante appunto un predicato built-in che viene poi convenientemente implementato come un operatore, però sostanzialmente è implementato in questa maniera, cioè not p se p cat fail. Altrimenti true. Il punto e virgola che vedete qui è la prima volta che lo incontriamo. è un'alternativa. La stessa regola che vedete qui l'avremmo potuta spezzare in due clausole not p se p cat fail punto e not p se true. in pratica in pratica questa qui è una quella del punto e virgola è una sintatti sugar che ci consente di poter esprimere in un'unica clausola due clausole. Ripeto, la seconda si otterrebbe prendendo ciò che segue il punto il punto e virgola e mettendolo dopo il se quindi ripeto qui in realtà abbiamo due clausole davanti una è not p se p cat fail punto e un'altra è not p se true. Con il punto e virgola vengono compattati in un'unica clausola questo in generale lo vedremo anche in altri esempi in futuro. Dunque in pratica cosa stiamo facendo? Stiamo facendo appunto un qualche cosa come quello che abbiamo visto prima se noi vogliamo provare che p è falso lo lanciamo e se ha successo cat fail cioè invertiamo la nozione di successo e fallimento se p è successo allora not p fallisce viceversa se p fallisce il cat non viene eseguito si passa clausola sotto e quindi not p restituisce true questo è il modo in cui si inverte in prolog il concetto di successo con quello di fallimento se p fallisce allora not p ha successo se p ha successo not p fallisce questa è l'implementazione in prolog della negazione per fallimento che poi non viene scritto così è anche vero perché il not viene con una direttiva ovviamente implicità nel prolog stesso viene usato come operatore prefisso come un connettivo come il connettivo not in realtà poi lo svoi prolog utilizza un altro un'altra espressione per il not dopo la vediamo quindi con questa negazione del fallimento possiamo riformulare l'eccezione di qui prima condensando tutto in un'unica clausola e dicendo che a Mary piacciono gli x se sono animali e non sono serpenti not snake in pratica questa clausola qui è equivalente a queste due e quindi abbiamo qui vediamo appunto un uso della negazione del fallimento per implementare il concetto di eccezione ad una regola bene tutto questo è molto comodo adesso vediamo cerchiamo di capire quali sono i problemi i problemi a parte qui ricordiamo appunto vediamo come viene espresso anche nello svoi prolog il not il not non viene espresso così nello svoi prolog ma viene espresso con lo slasher più ma lo vedremo anche degli esempi allora vediamo quali sono adesso i problemi i problemi sono questi qui che io posso lanciare in prolog degli atomi non ground e questo crea dei problemi l'ideale sarebbe evitare se è possibile di poter lanciare dei goal che non sono ground perché appunto questo non rispetta il concetto della negazione al fallimento originario vediamo cosa succede con questo esempio qui supponiamo di stare parlando di ristoranti e abbiamo un database di ristoranti che sono ristoranti pregevoli e poi anche abbiamo un'annotazione di ristoranti che sono anche di fascia superiore quindi costosi poi abbiamo una regola che dice che un certo ristorante è abbordabile se non è costoso not costoso in pratica implementiamo un certo concetto come negazione di un altro va bene si può fare però adesso vediamo i problemi che questo uso del not anticipato a un atomo che in questo caso un atomo in generale a un letterale che ha delle variabili dentro in questo caso la variabile ristorante può comportare se quando sarà lanciato il predicato abbordabile la variabile ristorante sarà stata istanziata allora avremo una forma di implementazione come abbiamo detto prima della closed world assumption che ci sta bene se invece perché a questo punto sarebbe lanciato l'atomo costoso il tal ristorante quindi con il ristorante implementato sarebbe un atomo ground quello che verrebbe lanciato come goal e tutto accadrebbe in maniera corretta come la definizione della closed world assumption se invece il la variabile ristorante non è stata implementata allora abbiamo avremo dei problemi ecco punto supponiamo ad esempio di lanciare il goal congiunto chiediamo se chiediamo al prolog se esiste un ristorante buono e abbordabile lanciamo questo goal e chiediamo se esiste un ristorante buono ed abbordabile vediamo come si comporta il prolog il prolog prende il primo goal il gol più a sinistra lo lancia e x viene unificato con il passetto dopodiché lancia il goal abbordabile passetto perché il ristorante è stata matchata sul passetto e parte della negazione per fallimento viene lanciato l'atomo costoso passetto e effettivamente questo matcha con un fatto che il passetto è un ristorante costoso per cui il costoso passetto ha successo not costoso passetto quindi fallisce a questo punto viene istanziato il ristorante federico si lancia il goal abbordabile federico questo lancia il goal costoso federico costoso federico fallisce perché non matcha con nulla e quindi fallendo il il goal il albero che nasce lanciando il goal costoso federico è finitamente fallito e quindi relativamente a questo goal il prologo risponderebbe false ma siccome c'è il not qui davanti si va nella seconda causa quindi viene restito true quello fallisce viene restito true e in effetti alla fine il prologo restituisce la risposta corretta alla luce della negazione del fallimento si esiste un ristorante buono e al tempo stesso abbordabile e il ristorante in questione è federico perché è buono e perché non è costoso la cosa antipatica è questa che se io lancio lo stesso goal e cioè chiedo se esiste un ristorante buono e abbordabile ma invertendo l'ordine dei goal quindi abbiamo anche un altro albero di riflettione cosa succede lo lanciamo succede che viene subito lanciato il goal abbordabile ma a differenza di prima quando viene lanciato il goal abbordabile la variabile x non è istanziata precedentemente invece era stata istanziata federico e quindi cosa succede succede che viene lanciato il goal costoso x x il ristorante non è istanziato quindi non stiamo lanciando un atomo ground ma stiamo lanciando un atomo non ground e quindi non stiamo rispettando la definizione della closed world assumption lanciare un atomo con una variabile non istanziata significa sostanzialmente ci stiamo chiedendo se esiste un un oggetto nel dominio che possa matchare con cioè che possa godere di quella proprietà di essere costoso nel caso dell'esempio che stiamo portando avanti siccome esiste un oggetto che è costoso passetto che è la proprietà di essere costoso passetto costoso ristorante con ristorante non istanziato matcha perché ristorante matcha sul passetto e a questo punto abbordabile ristorante fallisce cioè non esiste in pratica un ristorante abbordabile perché esiste un un ristorante costoso e quello è l'errore quindi fallisce abbordabile e siccome fallisce il primo gol non viene neanche preso in considerazione il secondo gol perché già il primo era fallito e il prologue restituisce false vedete quindi la differenza di comportamento se lanciamo il gol buono x abbordabile x tutto funziona bene x è federico perché quando viene lanciato il 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 not il not è applicato a un atomo che in cui è un atomo ground nel caso in cui secondo esempio il not viene applicato a un atomo che quando appunto viene lanciato non è ground quest'atomo per una qualche istanziazione di una variabile ha successo quindi il not fallisce fa fallire il predicato e il tutto è in funzione in maniera anomala quindi cosa possiamo derivare da questo esempio la negazione del fallimento la possiamo utilizzare però dobbiamo ricordarci che innanzitutto è una restrizione della negazione del fallimento originaria perché si fa uso di una particolare regola di computazione che è quella di prendere sempre la trompia a sinistra ma questo non è il problema più grave il problema più grave è che dovremmo stare attenti nella concezione dei nostri programmi che dovrebbero questi not comparire all'interno della decisione di predicati tali per cui quando venissero lanciati come goal questi predicati dovrebbero avere le variabili che compaiono nell'atomo o nel letterale negato tutte estanziate la trompia a sinistra Grazie a tutti